... Caro Energia, 63 mila aziende in Toscana rischiano la chiusura, appello di confartigianato al governo. La campagna adona un albero per la città e all'Istituto Dottini nasce un campo sperimentale. La camerata torna a esibirsi, stasera al Polteama il concerto che inaugura la nuova stagione. A Montemurlo torna la festa dell'olio con tante novità, domenica la giornata clou. Buongiorno, bentornati all'appuntamento con l'informazione di TV Prato. Come dicevamo nel sommario, 63 mila aziende in Toscana rischiano la chiusura entro la fine di quest'anno a causa del caro bollette e altre 10 mila imprese della provincia di Prato risultano fortemente condizionate dai rencari di gas e energia. Confortigianato e imprese Prato lancia un nuovo appello al governo. Effetti devastanti non c'è più tempo. Sentiamo. 63 mila aziende in Toscana su 440 mila imprese attive rischiano la chiusura entro la fine di quest'anno a causa del caro bollette. È questa la scure che può potenzialmente abbattersi su 228 mila addetti a livello regionale, da qui agli inizi del 2023, per colpa degli aumenti legati al costo di gas ed energia. Un nodo che al momento non sta trovando risposte e che, confartigianato e imprese Prato, insieme alle rappresentanze toscane dell'associazione, è tornato a sottoporre con forza all'attenzione dei parlamentari toscani che si adono a Roma. L'occasione è stato il confronto pubblico organizzato dalle associazioni di categoria regionali, CNA, Confartigianato Imprese, Confcommercio e Confesercenti, che si è tenuto a lunedì 14 novembre all'auditorium al Duomo a Firenze, alla presenza di oltre 400 imprenditori. Proprio dal tavolo di discussione è partito l'appello a salvare le piccole imprese che rappresentano il 96% del sistema economico toscano e che stanno annaspando nel mare dei rincari di energia e materie prime con effetti preoccupanti anche a breve termine. Veramente non c'è più tempo, veramente abbiamo necessità di interventi immediati a sostegno di quelle imprese che sono fortemente penalizzate dal caro energia. Queste imprese si indebitano per poter far fronte a questo maggior costo, mettono a rischio il loro futuro perché con un indebitamento sproporzionato, sproporzionato purtroppo per far fronte a questo immenso e enorme aumento del costo di energia, perdiamo la capacità domani di investire, perdiamo la capacità di essere anche in qualche modo appetibili o attrattibili per eventuali investimenti e quindi finanziamenti che potremmo fare per il futuro dell'azienda e lo sviluppo, mettendo a rischio quindi non soltanto il futuro dell'impresa ma anche di tutto il contesto in cui queste operano. La situazione non appare confortante neppure in termini locali. Su 29.000 imprese attive a livello provinciale pratese nei più svariati settori, oltre 10.000 risultano fortemente condizionate dal caro energia. Di qui la richiesta al Governo affinché intervenga in forma urgente per contenere gli effetti dell'aumento dei costi, arrivati a impattare sulle piccole e medie imprese dopo la già difficilissima situazione pandemica. A tutt'oggi, al di là delle promesse, da parte del Governo non sono ancora stati attuati provvedimenti diretti che possono far sperare di trovare delle soluzioni per alleggerire questo problema. E si rinnova stasera l'appuntamento col settimanale di attualità, parliamoci chiaro, al centro della trasmissione e l'avvio del dibattito pubblico sulla nuova pista dell'aeroporto di Peretola. Alla trasmissione interverranno il coordinatore del percorso partecipativo Alberto Cena, il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Vannucci e il presidente della provincia, nonché sindaco di Poggio Accaiano, Francesco Puggelli. L'appuntamento, come ogni giovedì, è per le ore 21.20. Da oggi è possibile donare un albero alla città, legandola a una persona cara o a un ricordo con la garanzia che qualcuno se ne prenderà cura per farlo crescere. Prende il via così, dona un albero, la seconda fase del crowdfunding sociale di PratoForestCity.it, la piattaforma dedicata alla forestazione urbana della città, realizzata nell'ambito del progetto europeo Prato Urban Giangolo. La presentazione di dona un albero è avvenuta in occasione dell'inaugurazione dell'intervento di forestazione del campo sperimentale dell'istituto scolastico Francesco Datini. Oggi siamo nella fase conclusiva della prima fase di sperimentazione di PratoForestCity, in particolare i progetti di crowdfunding, che hanno visto complessivamente il coinvolgimento di associazioni, cittadini e imprese che portano a questo punto nella città, tra oggi e gli alberi che verranno piantati nella prossima fase di piantumazione, circa 400 alberi. Ma quello che è importante è che oggi siamo anche di fronte all'inizio di una nuova fase. Quindi finita la prima fase di sperimentazione, parte a questo punto la nuova fase, in cui parte la fase di dono un albero, in cui i cittadini, le imprese, quindi chi vorrà, in particolare a questo punto anche in previsione delle vacanze natalizie, avranno la possibilità di donare un albero alla città, quindi con 150 euro tutti i cittadini potranno donare alberi in 5 aree che l'amministrazione comunale mette a disposizione e che di fatto poi dopo con queste risorse verranno piantati gli alberi e gestiti per i due anni di attecchimento. La campagna di forestazione è stata accolta dal Datini con un grande entusiasmo proprio perché ci ha permesso di incrementare il nostro numero di piante del campo sperimentale che è proprio un laboratorio specializzato per i nostri ragazzi che fanno le prime esperienze con le culture. e questa campagna di forestazione sicuramente ha un valore anche proprio educativo e didattico molto importante che noi sposiamo perfettamente. La cronaca è stata fermata per un controllo dalla Polizia Municipale mentre transitava in via Genova alla guida della sua auto. Gli agenti si sono insospettiti per l'atteggiamento del conducente, un cittadino marocchino di 42 anni, hanno fatto intervenire colleghi dell'unità cinofila con i cani antidroga Ritter e Tesla i quali sono riusciti, grazie al loro fiuto, a rinvenire nel bagagliaio occultato un panetto di hashish di circa 100 grammi. L'uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha disposto nei suoi confronti la misura del divieto di dimora nel comune di Prato. L'ultima pagina, Francesco Torselli stato ospite questa mattina della rassegna stampa. Prima di tutto il consigliere regionale di Fratelli d'Italia ha raccontato anche un aneddoto legato al suo primo incontro con Giorgio Meloni nel 1996 a una iniziativa del Movimento Giovanile di Alleanza Nazionale. Ascoltiamo. Io avevo iniziato da pochissimo a fare politica nel Movimento Giovanile. Era il 1996, era il periodo in cui i gruppi giovanili di Alleanza Nazionale erano appena nati sulla trasformazione del Movimento Sociale in Alleanza Nazionale. Le vecchie organizzazioni giovanili, il Fronte della Gioventù, il FUAN, erano anche loro cambiate e era nata Azione Giovani, che era il Movimento Giovanile D.A.N. e Azione Giovani organizza a settembre del 1996 la prima festa nazionale nel Parco di Colleoppio a Roma. Quindi io appena iscritto ne ho iscritto, parto insieme ad altri ragazzi in treno per andare a fare queste tre giorni a Roma e arriviamo di venerdì sera e ci viene detto che la prima iniziativa sarebbe stata quella il sabato mattina di andare di fronte alle varie scuole di Roma a propagandare la nostra festa. e io finisco in un gruppo che era guidato dalla responsabile di quella scuola che era questa ragazzina bionda, piccolina, con le treccine e ti dico all'inizio, a dove andiamo? Cioè qua oggi ci picchiano perché se questa era la responsabile invece aveva una grinta, un carisma che si chiamava Giorgia Meloni si chiamava Giorgia Meloni, si capiva che era anche una tosta. E' morto Don Giacomo Paratico, sacerdote incardinato nella diocese di Prato ma residente da quasi 50 anni a Dalmine in provincia di Bergamo. Suo paese d'origine aveva 86 anni e dal 2018 era ospite nella casa di riposo della parrocchia di Dalmine. A Prato era arrivato alla fine degli anni 60 nella stagione delle cosiddette vocazioni adulte. L'allora vescovo Pietro Fiordelli chiamò molti giovani dal nord Italia desiderosi di iniziare il cammino sacerdotale tra questi c'era appunto anche Giacomo Paratico che fu ordinato proprio da Fiordelli nel 72. A Prato rimase poco, l'anno successivo tornò a Bergamo nella sua diocesi di origine. E stasera al Teatro Politeama prende il via la nuova stagione concertistica della Camerata Strumentale Città di Prato. La nuova stagione della Camerata Strumentale Città di Prato che quest'anno compie 25 anni si apre con un gradito ritorno, quello di Ugo Ticciati violinista di origine britannica che vive in Svezia che fece il suo debutto a Prato ad ottobre dello scorso anno ricevendo un caloroso riconoscimento da parte del pubblico. Ticciati dirigerà l'orchestra pratese in occasione del concerto inaugurale di stasera al Teatro Politeama. Il programma inaugura un progetto pluriennale consagrato all'integrale delle sinfonie di Brahms poste in dialogo con pagine di musica contemporanea. Oltre alla sinfonia numero 2 in Re Maggiore opera 73 di Brahms è previsto anche il concerto per violino numero 2 Evening Light di Vasques presentato in prima esecuzione italiana. Assieme alla Camerata si esibiranno 7 allievi dell'Accademia Omodel provenienti da tutta Europa. È molto importante per me la collaborazione con i giovani musicisti da Svezia, da Slovenia che vengono qui per suonare insieme e fare qualcosa di assolutamente importante per loro ma anche per noi che suoniamo insieme e lavoriamo ma c'è un senso di giovani che hanno lo spirito di curiosità quando suonano forse la prima volta Brahms e il secondo abbiamo fatto molte volte ma per loro la prima volta e questa è una sensazione di curiosità e di gioia suonare insieme e per me queste collaborazioni sono cose importanti. Il concerto avrà inizio alle 21 in precedenza al ridotto del Teatro Politeama alle 18.45 si darà la consueta guida all'ascolto a cura del maestro Alberto Battisti direttore artistico della Camerata. E ci spostiamo a Montemurlo dove torna la Festa dell'Olio con tante novità. Sarà Arianna Polidori Miss Sorriso Toscana 2022 la madrina della 27esima Festa dell'Olio di Montemurlo che dopo due anni segnati dalla pandemia torna alla sua formula tradizionale. La manifestazione promossa dall'amministrazione comunale con l'associazione Il Borgo della Rocca il Comitato Festa dell'Olio e il Patrocinio della Regione coniuga la promozione del territorio e del suo prodotto d'eccellenza dell'agricoltura locale l'olio appunto con cultura, arte e socialità. Il clou domenica 20 novembre con l'apertura del frantoio della Rocca dell'azienda agricola Felice Agricoltura e la vendita di olio e prodotti del territorio gli stand gastronomici, delle associazioni, della filiera corta Montemurlo e il mercatino di artigianato e di antiquariato. E poi tanta iniziativa ad animare la giornata. Arianna Polidori, pratese, con origini montemurlesi rappresenterà la Toscana alle finali di Miss Italia e sarà in prima fila la Camminolio contro la violenza sulle donne la passeggiata che aprirà domenica alla giornata finale della festa. Sono felicissima e sono contentissima che il sindaco mi abbia dato questa opportunità soprattutto perché verrà affrontato un tema importante oltre ovviamente alla festa dell'olio e che olio vorrei dire molto buono però verrà affrontato il tema sulla violenza delle donne un tema in cui Miss Italia ci ha sensibilizzato ogni giorno e che dovrebbe essere approfondito sempre di più soprattutto all'interno delle scuole perché è molto molto importante. Sappiamo che per noi la festa dell'olio è la festa più importante e più significativa che mette al centro ovviamente l'olio questo simbolo dell'identità verde di Montemurlo ma che ci consente tutti insieme a tutta l'associazione del territorio di promuovere anche l'immagine di Montemurlo a di là di quello che è il suo elemento caratterizzante di comune industriale ma anche a riguardo le sue bellezze, le sue eccellenze. Il programma della festa prevede venerdì sera al bar pasticceria Vittori Caffè il concorso dell'olio. Sabato sarà una giornata sotto il segno di arte a olio. Tra gli appuntamenti in programma al mattino al teatro della Salabanti il convegno olio e non solo. E adesso prima dei saluti come sempre la parola al Consorzio Lama per le previsioni meteorologiche. Un saluto dalla sala metro del Consorzio Lama cominciamo con il vedere subito le immagini che ci mostra il satellite vediamo come si nota bene una perturbazione che dalla Francia tende a interessare l'Italia molto veloce sospinta da correnti atlantiche che la porteranno sull'Italia questo tra oggi e domani. Andiamo a vedere la previsione per il pomeriggio della giornata di oggi nubi più consistenti sulle zone settentrionali con possibilità di qualche pioggia in particolare sulle province di Massa Carrara Lucca e Pistoia a ridosso dei rilievi altrove un cielo nuvoloso con schiarite più ampie invece al centro-sud venti meridionali mari molto mossi a nord dell'isola d'Elba e temperature intorno ai valori di ieri passiamo alla giornata di domani diciamo che durante la notte arriveranno dei rovesci dei temporali sparsi che interesseranno buona parte della regione peggioramento però molto rapido infatti già dalla mattina le nuvole tenderanno a diminuire già sulla costa con delle schiarite nell'interno rimarranno con qualche ancora acquazzone sparso venti in rinforzo da ovest con ancora mari molto mossi a nord dell'Elba nel pomeriggio ancora nuvolosità variabile con addensamenti più che alto sulle zone più interne qualche pioggia residua sarà possibile schiarite più ampie sulla costa e al sud con ancora venti di ponente forti sul litorale più deboli nell'interno e temperature che rispetto alla giornata di oggi non cambieranno in modo sostanziale bene con questo direi che è tutto ebbene tutto anche per quanto riguarda il nostro telegiornale appuntamento con l'informazione stasera alle 20 e 30 buon proseguimento di giornata in compagnia di TV Prato a a Grazie a tutti.